Delfos ND è la prima varietà di zucchino di Singenta con resistenza al virus del New Delhi per la Sicilia. In un areale come quello nisseno e agrigentino, la varietà ha mostrato ottime performance, anche in condizioni estreme di salinità e temperatura. È il risultato del nostro programma di ricerca e sviluppo destinato ai trapianti autunnali in cultura protetta. Si presenta con un portamento bilanciato, compatto e con facile individuazione dei frutti, facilitando tutte le operazioni di gestione. Nel comprensorio fra Ispiche e Rosolini e nell'areale siracusano in generale, nei trapianti che vanno da metà settembre a metà ottobre, Delfos ND riesce a garantire un'eccezionale tenuta di pianta grazie alla resistenza al New Delhi virus e all'orizio ed una produttività costante durante tutto il ciclo culturale. Delfos ND, garanzia di qualità per tutta la filiera. Delfos ND, garanzia di qualità per tutta la filiera.